Una brutale aggressione ai danni di un'infermiere in servizio al triage del pronto soccorso, presa alle spalle e all'improvviso e senza motivo da un cittadino presumibilmente indiano in quanto senza documenti, che le si è scagliato contro, trascinandola per terra ed iniziando a colpirla con violenza, con pugni al volto e dal corpo. Un caso di cronaca che ha scosso gli animi, ma che sicuramente può essere uno spunto di riflessione sulla sicurezza all'interno del pronto soccorso e più in generale degli ambienti sanitari, tema particolarmente caro alla Federazione Nazionale Collegi Infermieri. Purtroppo questo è un caso eclatante che è venuto alla ribalta della cronaca ed è sostanzialmente la punta dell'iceberg, però i casi sono più numerosi, che purtroppo spesso non vengono denunciati. Dovremmo far presente quelle che sono le condizioni di pericolo e di insicurezza che quotidianamente viviamo affinché le aziende ci possano anche aiutare e proteggere durante la quotidianità. Vengono considerate di fatti l'area più a rischio quelle legate all'emergenza urgenza, quelle alle lungodegenze, ai servizi psichiatrici, ma anche nel territorio. Sappiamo, siamo venuti a conoscenza anche di altri casi nel territorio in cui il professionista sanitario è stato vittima di violenza. Ho nel cuore la collega quando ritornerà al lavoro e si ritroverà in una condizione simile la paura che possa provare e il disagio che possa avere. Quindi noi chiediamo che venga supportata in tutto e per tutto affinché la sua integrità psicofisica possa essere garantita. Le azioni da mettere in campo possono essere tante, può essere quella dell'allarme da poter suonare, può essere quella dell'impianto video da poter inserire all'interno dei luoghi più pericolosi, però sicuramente è la formazione e l'informazione del personale che devono riuscire a riconoscere quelli che sono i pericoli che stanno in quel momento vivendo e devono riuscire a gestire con l'aiuto anche di forze dell'ordine o di altri tipi di organizzazioni devono poter gestire persone pericolose che, come in questo caso, stavano usando un servizio proprio legato a quello che stavano vivendo. Grazie. Grazie.